Essendo assessore e vice sindaco non posso svolgere il ruolo di consigliere comunale, del resto non ho fatto parte di alcuna commissione consigliare proprio per questo motivo. In casi come questi è giusto dare spazio ai primi dei non eletti. È così che oggi il vice sindaco Filippo Bellanca spiega le ragioni della sua scelta, annunciata ieri pomeriggio, quella cioè di dimettersi da consigliere comunale e di optare per la carica di assessore dell'Aggiunta Valenti. Al suo posto entrerà in consiglio comunale Gianluca Guardino, primo dei non eletti nella lista di sciacca democratica alle amministrative dello scorso anno, con un passato di assessore in due giunte di centrodestra, quella di Mario Turturice e quella di Fabrizio Di Paola. Una decisione, quella di Bellanca, di rinunciare allo scranno all'interno di Sala Falcone e Borsellino, di cui si parlava da tempo e che è stata formalizzata poco meno di un anno dalle elezioni dello scorso giugno. È stata una cosa che ho meditato e mi sembrava opportuno e doveroso dare spazio al primo dei non eletti, che è Gianluca Guardino, anche per consentire di svolgere appieno il ruolo di consigliere comunale. Ricordo che io non facevo parte di nessuna, per esempio, commissione consigliare, quindi ero un lavoro che svolgevo in maniera ridotta. Quindi adesso sicuramente rafforziamo un attimino il gruppo e la maggioranza e svolgere un ruolo di consigliere comunale, un ruolo importante. Io sono stato consigliere comunale dal 2004, quindi ritengo che si deve svolgere a tempo pieno senza avere altri impegni che invece da assessore e vice sindaco, come sappiamo tutti, sono tanti. Nuccio Cusumano mantiene in tal modo la promessa fatta all'ex assessore Guardino in base ad un accordo all'interno della lista di sciacca democratica che prevedeva appunto che chi avesse ottenuto più voti avrebbe fatto l'assessore dimettendosi dal consiglio comunale per fare spazio ad altri della lista. Ma Bellanca in questi mesi non ha voluto saperne di rinunciare al ruolo di consigliere e questo sembra essere stato anche uno dei motivi per i quali i rapporti tra Bellanca e Cusumano pare si siano incrinati. Eppure oggi il vice sindaco minimizza e a proposito di presunte pressioni che avrebbe subito per rinunciare al ruolo di consigliere comunale risponde così. C'è stato un momento in cui lei sembrava intenzionato a non fare un passo di questo tipo, poi cosa è successo? Ha subito delle pressioni e alla fine ha dovuto cedere? Guardi, niente di assurdo, niente di anomalo che in politica è giusto così. C'era questa ipotesi di mettermi per fare spazio sin dall'inizio, devo dire, di fare spazio al primo dei non eletti. Ho riflettuto un attimino sul ruolo che era giusto svolgerlo a tempo pieno, io non potevo assolutamente farlo e quindi è giusto dare spazio agli altri. Le dimissioni di Bellanca da consigliere comunale potrebbero essere il primo passo nell'ottica di una rivisitazione degli equilibri interni alla giunta del sindaco Valenti. È di tutta evidenza che proprio il gruppo Cusumano ambisce ad un secondo assessore, con l'attuale consigliere comunale Valeria Gulotta che dovrebbe prendere il posto di Annalisa Longi. Una ipotesi di questo tipo aprirebbe le porte di Sala Falcone e Borsellino ad un altro dei non eletti della lista di sciacca democratica. Con le dimissioni di Bellanca da consigliere comunale, infine, l'unico assessore che continua a mantenere il doppio incarico è Paolo Mandracchia.